La nazionale di basket con sindrome di Down ha vinto il campionato del mondo e noi siamo andati all'aeroporto di Fiumicino ad incontrare i campioni al rientro dalla Turchia a NaMilan. Quando ci sto gridando è un'emozione grande, forza di radia a tutti. Eccolo il Dream Team azzurro, come loro nessuno mai al quarto mondiale che conquistano. I migliori di sempre, l'oro della nazionale di basket con sindrome di Down ai campionati del mondo in Turchia. Il basket è tipo un'emozione forte, io prima lo prendevo come gioco, non lo sapevo a dove sono arrivato finora. Io do tutto a me stesso. Vittoria sudata, quella medaglia si tiene stretta. 18-17 contro la Turchia, un canestro dopo l'altro, cuore da campioni. Mi piace questa emozione, voglio diventare ancora più grande col basket. Agli italiani che fanno il tifo per voi, vuoi dire qualcosa? Beh, forza ragazzi, fino alla fine, non moriamo mai.